Per compilare il questionario accedere al sito www.fisbaldidat.it e premere su Università degli Studi di Siena. È possibile qui selezionare la lingua, inglese o italiano. Dal menu sulla sinistra premere sul riquadro rosso per fare login. È necessario procedere con l'autenticazione istituzionale Accedi con Scibole. Dopo aver inserito le credenziali si aprirà questa schermata dove in alto a destra è possibile vedere il proprio nome. Dal menu sulla sinistra premere sulla voce questionari e compila. Premere su Opinioni studenti dottorato e sull'anno a cui siamo iscritti che il sistema propone automaticamente. Si apriranno quindi una serie di domande a cui rispondere. Nel caso J si tratta di domande a risposta multipla, nel caso D saranno affermazioni a cui dovremo rispondere con una valutazione da 1 a 10. 1 significa che non siamo d'accordo, 10 significa che si è totalmente d'accordo con l'affermazione. Sulla base della risposta data è possibile che alcune delle domande successive non si aprano. Quindi nel caso di J1 rispondendo no, il sistema rinvia direttamente a J5. Se invece tornando su J1 modifico la mia risposta inserendo sì, mi proporrà le domande successive. È possibile quindi modificare le proprie risposte, annullare il questionario in ogni momento e al termine di tutte le domande premere su Termina per completare l'operazione. Richiede pochi minuti, è molto veloce e facile. Richiede pochi minuti, è molto veloce e facile.